Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Pryson, anzi su Minecraft OP Pryson in compagnia del nostro carissimo Bisunto, ciao a tutti Eccolo qua, grandissimi Allora ragazzuoli, siamo di nuovo sul server Wars Academy War Academy, scusate War Academy e siamo Tipo, qua da me sono Le 16 e 25, sono 36 gradi E io sto con la maglietta e la luce accesa Tipo un caldo infernale Tra poco collasso Cosa? Sì, no, per carità Mi piace il caldo ma va bene tutto Allora, siamo su OP Pryson Attualmente ho un Ho un rank 2 Il mio rank è 2, insomma il secondo rank E' cool, adesso vi spiego come funziona E' uguale al Pryson, soltanto che ci sono Ti danno tutta roba OP Puoi scavare davvero molto velocemente Ci sono delle miniere, free miniere Non so lì perché ci siano sti cosi Non ho Ehi, tanto E la, e la, e allora Ma è una roba che mi so fregato Che spettacolo Cioè, ho trovato una quantità di roba stratosferica Non so perché Non so se l'abbiamo volutato Ok, qui stanno finendo roba Stanno, non lo so Non so che cosa sia successo In tutti i casi ho preso una quantità di roba schifosa Ora apriamo lo shop Sell all A Ecco qua Ti seleziona tipo call Tu gli metti dentro tutta sta roba Chiudi E ti dà una quantità Di roba No You have been given back Because you could not sell them Perché cazzo non posso venderli? Alcuni no Adesso faccio così Vediamo li vendo così Vedrai eh Call Gli metto dentro sta roba Perché non posso venderli? Cazzo Perché sei troppo scarto Mi dispiace No, davvero È strano Allora, andiamo su call Prima l'ho venduti Sono sicuro No, 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 no Sorry for this item Non posso vendere questi item Totalmente inutile Ma io allora come Vinc Come prendo roba Vediamo se posso vendere gli smeraldi Neanche gli smeraldi Cioè, è totalmente inutile Cioè, ho tipo Eh Uno Una quantità di roba infinita E non posso Cosa? Trappi i blocchi qua No, no, neanche No, no Con i blocchi uguale Ho provato a vendere i blocchi Non li vende Non so per quale è lo scomodivo Adesso vendo un coso di call Allora ragazzi C'è un piccolo Ci sono diversi problemi Riguardanti Il Pryson Ergo L'OPPryson Scusate Quindi ritorniamo Sul bellissimo Pryson Dato che avevamo anche un sacco Un sacco di roba là Ragazzuoli Siamo nel Nel Pryson normale E purtroppo Hanno resettato tutto Quindi l'idea Che mi sono preso attualmente 4000 pun 4000 monete E l'idea è che Non ho più Niente Nient'altro Ora facciamo rank up E eccoci qua Finalmente rank B Adesso direi di andare subito Il warp Dove è? Warp B Che c'è Bisunto che mi aspetta Eccomi qua Eccomi qua Ho fortuna livello 100 Su questo piccone Ma questo Scava per 3 Sì Ti piace? Oh mio dio Questo ragazzi È meraviglioso Se volete anche voi Questo piccone Costa solamente 2000 token Che spettacolo È meraviglioso È qualcosa di clamoroso Vi giuro C'è un piccone del genere In minecraft Perché queste cose Non si possono fare In minecraft Cioè mi facevo Oddio ragazzi No ma vi rendete conto Che è sta roba? Che spettacolo Ah sto lasciando La scia dietro Perché io non riesco A raccogliere tutti gli item Ogni 3 picconate Devo resettare tutto Meraviglioso Sell all E via Bim Ok rank up Posso già fare rank up E andarmene a rank Quello successivo Quindi rank up Eccoci qua Finalmente rank livello C E possiamo andarcene Al warp C Di nuovo Bim Eccoci qua I liai massimo Non cambia assolutamente un cazzo Però No c'è il ferro C'è il ferro Chiedovenia Chiedovenia Bim 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 E te con fortuna 10 Te ne becchi veramente molto Io si si E ho voglia Si bugga Si bugga Con fortuna 100 Si perché praticamente Con fortuna 100 Gli ore questi qua Non li posso prendere tanti Però Chi se ne importa Perché c'è poco di ferro Per carità Beh Va ben bene Io posso già fare il rank up 2000 volte Eh vabbè ma tu Cazzo tu c'hai roba Un po' più oppi di me Perché hanno resettato tutto Da poco E quindi Probabilmente qualche bug O qualcosa del genere In tutti i casi No vabbè Sto andando abbastanza bene Eh vendiamo tutto di nuovo Sell all Cioè questo è quello che dovete fare Aspettate Ok Bim Questo ma non va dato Si posso fare il rank up Il che è interessante Adesso vendiamo il ferro Che è la parte forse più sostanziosa E vediamo Siamo a 6 Allora 7000 Tanta roba Rank up Siamo a rank di livello D E ci andiamo subito Al warp D Perfetto Qua non cambia assolutamente niente C'è un altro tipo di clay Ma il linee massima Non cambia niente Possiamo Subito fare il rank up Di nuovo E andare al warp E Stiamo procedendo in maniera velocissima Ragazzi Che stai Così è divertente Così è bello Esatto Perché ti fai Oh qua c'è anche l'oro E quindi iniziamo Adesso scaveremo sicuramente Una roba più interessante E riusciremo A prendere Or Molto più costosi E quindi andare su avanti Molto bene Dobbiamo arrivare a 10.000 cose Non penso sia un grandissimo problema Io non ho pozione di invisibilità Quindi probabilmente voi non state vedendo un cazzo Ma questo è Ed eccessivamente Insomma ragazzi Poi La seconda parte del video Praticamente ora Che io faccio un altro po' di rank up E poi ce ne andiamo ragazzi A costruire A vedere i lotti Perché vi faccio vedere Che cosa abbiamo in mente Ragazzi siamo a warp E E qui Ah ma la miniera Questa è stata devastata E c'è qualcuno sotto anche Che palle no dai Ma hanno devastato la miniera Questa era bellissima Perché io entravo Non c'era nessuno Neste miniere Io mi prendevo un sacco di roba Però riesco a prendere Lo stesso un sacco di roba E c'è davvero Tanti tanta gente Ora Arrivare a 50.000 Penso sia abbastanza easy Con sto piccone Che mi ritrovo Perché davvero Riesco a scavare Una quantità di blocchi Che fa paura Cioè Voi non vi immaginate Non è che ci ho messo tanto Ad arrivare qua Certo un po' di tempo Per carità Però vi giuro È qualcosa di atroce Cioè Viste ce l'ha ancora più OP Questa persona che si sta spaventando Guarda questa qua nella miniera Ci sta seguendo Per raccogliere quello che perdiamo E ma la perdiamo Praticamente nulla Perché io Poi faccio sell all in continuazione Con sell all Qua riuscite a vendere Tutto quello che avete vendibile Dentro Cioè basta un comando E fate sell all Tanta tanta roba Per carità Ora Vediamo un po' Ci siamo Di nuovo sell all Quanto siamo? 3.000.000 Ok Mi mancano Sono a metà più o meno Quindi con metà Riesco a prendere qualcosa Ci rivediamo Appena ho Tutto pronto Ragazzuoli Eccoci qua Abbiamo raggiunto Il warp M E penso che possa bastare Siamo quasi a metà Del nostro cammino Per arrivare a Z Mi Dai a me il piccone Oppure lo tienite Nella cesta È messo benissimo Ah ok Perfetto Va bene Andiamo nelle ceste Allora Allora andiamo Sì dai A prenderci un po' di roba Warp Com'era? Warp casse Bravissimo Eccoci qua Scioppiamo un pochettino Scioppiamo Io tanto ho i cosi Toclano Una quantità di roba Incredibile E quindi via Bim iniziamo A prenderci roba Vediamo Vediamo Voglio un sacco di soldi Perché devo farmi il rank up Il prossimo ragazzi È lontano Guarda che piccone Mi sono preso il piccone Del rank Che bello Io ho preso 16 diamanti Ci faccio l'inutilità Più totale Sono un click A 16 diamanti Sì ma infatti C'è No Ok Smeraldi Smeraldi 810 No diamanti 32 diamanti Cioè sono A me serve un'armatura È l'inutilità proprio Sei lull Ancora Vendo Basta Non me la voglio shoppare Andiamo Ai cosi Ai lotti Andiamo ai lotti Warp lotti Giusto? Lotti Lotti Bim Eccoci qua Bis mi teleporti al nostro lotto? Ma è semplicissimo Guarda free Basta che seguiamo questo corridoio E andiamo verso al beacon Verso il Ah è questo Qua è il nostro Eccolo qua È questo Ti piace? Eh ma io non posso fare un cazzo Come no? No Guarda Ok allora ti aggiungo al plot Grazie Allora andiamo Perfetto Ah guardate un po' Adesso andiamo nell'altro Aspetta free Questo qua è dall'altra parte del fiume È di qui eh Questo è dall'altra parte del fiume Sempre nostro È un mega castello Oh Ah ok Con un fiume all'interno Un castello particolare Do you like? Eh 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 Non è malissimo Allora però la dobbiamo finire Sì Lotto di free gaming e bisunto Esatto Eccolo qua Ragazzoli Allora questo è quanto Questa era la nostra dimora La dimora mia È di questo ragazzino qua Si chiama bisunto E Allora on dance Allora on dance Beh bisognerà fare tanta roba Perché con sto fossato in mezzo È interessante Non so bene come gestire un fossato in mezzo Io non lo so Un castello Tipo con le barche Ci facciamo un ponte elevatoio sopra Potrebbe essere davvero una figata Secondo me Sì Problema anche per costruire qui in mezzo Dobbiamo chiedere i permessi Quindi anche quello Qui in mezzo non possiamo costruire noi Eh perché in realtà era un sentiero L'ho distrutto io Ah ma questi sono due lotti attaccati? Sì sono due lotti E io praticamente in mezzo Ho detto Non mi piace avere più sentiero in mezzo Due lotti Bravissimo Eh noi siamo un tosti C'è boia vacca Due lotti insieme Esatto E tanta tanta roba Ragazzi allora qua Cosa ci andrà? Ci andranno un sacco di sistemi di difesa In modo tale che Qualsiasi persona possa tentare In qualche modo ad entrare Dato che non può rompere i blocchi Morirà Esatto Veramente molto molto male Questa è l'idea Ditemi un po' Se vi piace Magari provare Vi lasciamo una via Di Una possibilità soltanto C'è soltanto un modo Per entrare E magari se voi lo trovate Siete molto molto bravi Magari con passaggi segreti Che comunque free è ben capace Sì voglia Ne abbiamo fatti tantissimi Su minecraftita In tutti i casi ragazzi Le penso che per questo video Posso essere tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Ricorda lasciare un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete già fatto Di condividere il video Su facebook Il programma Il programma Il programma Passate sul canale In descrizione A un prossimo video Detto come al solito Troppe volte Ciao a tutti ragazzi